Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva, in questo sabato 7 maggio, sabato che è giornata di vigilia non solo della festa della mamma, ci mancherebbe altro, ma è vigilia di Atalanta Udinese, una gara che si giocherà domani, anche se la squadra è già in quel di Bergamo, a preparare con una sorta di mini ritiro la partita che ovviamente al momento riveste un'importanza capillare per la formazione di Gigi De Cagno. Sul Messaggero Veneto analizziamo tutto quello che c'è da sapere sulla partita, su questo retroscena all'arme rosso, così chiamata la pagina proprio dal Messaggero Veneto, perché si parla di un incrocio, pensate un po' di veleni e affari, ecco la volata salvezza, perché c'è appunto questo incrocio di tifi che si intersecano, l'Udinese tifa fiorentina, la quale potrebbe cedere in estate Danilo e Verre, questo è il retroscena di mercato, Zamparini all'ultima, avrà il Verona che si è scansato contro il Frosinone, e ovviamente il riferimento è a Verona Frosinone, finita 2-1 con i Ciociari che hanno vinto all'ultimo minuto con il Verona che ha concesso un gol abbastanza, diciamo, evitabile, chiamiamolo così. Stefano Pioli è uno dei candidati alla panchina friulana, ma potrebbe anche sostituire Paolo Sousa a Firenze se l'allenatore portoghese decidesse di cambiare aria, ed ecco che appunto ci sono anche dei retroscena relativi alle panchine che balleranno in estate, ma anche se ovviamente poi tutte le squadre cercheranno di fare il massimo, a prescindere da quelle che saranno queste tematiche. Poi c'è la Lazio di Lotito che può, pensate, decidere il destino del Carpi, il cui approdo in alpari di quello del Frosinone non sembrava gradito al patron bianco celeste, e qui rientriamo invece nelle intercettazioni che vennero fatte a Lotito in cui vedeva nella promozione di Frosinone e Carpi un male per il calcio italiano. Eccole le ultime due tappe con la classifica qui espressa, 41 Atalanta e Bologna, 40 Sampdoria, 38 Udinese, 35 Carpi e Palermo, 31 Frosinone con le due partite che le squadre dovranno affrontare, ovviamente noi ci focalizzeremo su Atalanta e Carpi, l'Udinese ha più o meno, comunque lo abbiamo detto, il boccino nelle proprie mani perché aritmeticamente con quattro punti si è salvi, quindi ovviamente non perdendo, anche facendo due pareggi, questi sono stati i calcoli, l'importante è non perdere con Atalanta né con Carpi, in quel caso sarebbe aritmetica in ogni caso, la salvezza è un paradosso che abbiamo analizzato qualche rassegna stampa fa, con due pareggi a 40 punti, si è sicuramente più salvi che con 41, vincendo soltanto una delle due, ma ripetiamo, sono discorsi ovviamente molto ostici, molto intrecciati, preferiamo concentrarci ovviamente su quello che sarà il prossimo turno, il prossimo turno che prevede Atalanta-Udinese dove ci sarà a centrocampo Alfredson, una rispunta, un po' sorpresa, il nome dell'islandese, De Canio vuole muscoli, De Canio vuole esperienza, De Canio farà sedere molto probabilmente Fernandes in panchina. Tra i convocati Erto e Perizza non c'è Ermero, al pari di Di Natale, dello squalificato Felipe, Erto che però tra i convocati sì, ma difficilmente riuscirà a trovare spazio dal primo minuto, perché Valgheia al momento dal punto di vista fisico dà maggiore garanzia, maggiore affidabilità. Poi c'è Gomez che lo sconto lo ha ricevuto ma non ci sarà contro l'Udinese, è una tematica che era stata toccata anche in conferenza stampa, si parlava di questo sconto della disciplinare per il Papu Gomez, sconto che è arrivato, ma giustamente come sottolineava Gigi De Canio non si poteva nemmeno ipotizzare uno sconto di due giornate, quindi Gomez che giocherà l'ultima di campionato, ma ci interessa poco perché comunque con l'Udinese non ci sarà, nello specifico andiamo a rivedere Atalanta che quindi potrà disporre del Papu Gomez contro il Genoa, ma sarà diciamo Genoa-Atalanta una partita molto molto con pochi argomenti da dare, se non quello del risultato finale. Alla scoperta di Borriello che a dieta, questa è ovviamente la battuta che lui stesso ha fatto, ma la fame di gol è ancora tanta, un Borriello che è dimagrito 7 kg, ma da quando è dimagrito ha ritrovato davvero tanti gol, ne discuteremo dell'attaccante non solo, ovviamente come abbiamo visto anche prima della rassegna stampa cronaca nella nostra trasmissione di approfondimento proprio sugli avversari, giochiamo d'anticipo questa sera alle 21, ovviamente il pezzo a firma sempre di Marco Canciani che ci approfondirà le tematiche, lo faremo insieme sull'Atalanta, su Borriello e non solo perché è stata una rinascita calcistica, quella di Marco Borriello che è andato a segno quattro volte, doppietta contro la Roma, due gol di splendida fattura, poi Palermo e Chievo, quindi una condizione fisica ritrovata, 8 kg persi negli ultimi due mesi, è stato di forma brillante, confidenza ovviamente quello che a Borriello mancava e che ovviamente avremmo preferito continuasse a mancare al bomber ex Roma anche nelle partite che verranno e ovviamente anche contro l'Udinese. Ci spostiamo indietro per andare anche a vedere le parole di De Canio anche se un'altra notizia che è fresca di ieri e molto importante è il punto con Verona Juve, testa coda, unica gara che non conta del campionato della 37esima giornata di Serie A ma è una notizia che ci introduce di fatto un'altra più importante che è il rinnovo del contratto di Allegri fino al giugno 2018, pensate per quasi 5 milioni a stagione, siamo sui 4 e mezzo abbondanti, poi stasera si parte con le due melanesi ma la corsa è solo per l'Europa League, giocheranno Inter Empoli e Bologna Milan, praticamente come detto non sono gare chiave per quanto riguarda la corsa salvezza, invece la volata dell'Udinese che riguarda proprio la salvezza e De Canio ha detto il destino è tutto nelle nostre mani, queste le parole del tecnico di Matera che predica tranquillità prima della partenza del ritiro in vista di Bergamo, c'è un vantaggio da difendere, ha detto le parole, insomma se siamo stati bravi finora ad avere questo vantaggio da poter gestire dobbiamo saperlo anche sfruttare un po' di focus negli occhielli dell'articolo del messaggero Veneto sull'impiego di Widmer, ha sempre lavorato a parte ma abbiamo ancora dei giorni a disposizione per questo lo svizzero lo considero recuperabile vista l'importanza della partita, vista l'importanza del giocatore sembra difficile che non verrà ipotizzato Widmer a meno che non avrà una piccola ricaduta ma l'affaticamento è alle spalle, giocherà Domizi, non siamo proprio così scarsi quando abbiamo palla dobbiamo giocarla e Piris può tornare utile sulla fascia destra sempre in ottica eventuale non recupero da parte di Silvan Widmer e poi c'è il rientro di Zapata, sono felice ma credo che bisogna fare delle valutazioni di gruppo per la gara col Torino, l'abbiamo fallita tutti quanti, ovviamente una domanda che andava un po' a sottolineare la grave assenza di Zapata non rimpiazzato adeguatamente da Ridermatos ma ovviamente il tecnico ha voluto difendere tutto il gruppo e non solo ha voluto poi parlare De Canio di tanti argomenti ma anche, e intanto diamo una preview di quello che sarà il prossimo argomento, dei tifosi che si sposteranno davvero in massa a Bergamo prima di leggerci questa pagina del messaggero Veneto sentiamo cosa ha detto De Canio proprio sui tifosi, li ha ovviamente ringraziati, non poteva fare altrimenti ha parlato anche un po' di squadra, sentiamo proprio le parole di De Canio e poi parliamo dei tifosi con il messaggero Veneto Beh non posso parlare, non voglio parlare perché non voglio essere accusato di piageria e quindi noi non possiamo che solo dire grazie la scorsa settimana abbiamo fatto un appello e loro hanno risposto in maniera incomiabile e noi li abbiamo ripagati con una prestazione assurda quindi mi fa piacere ma se ricordate anche le parole che ho detto quando sono arrivato io ho parlato di questa simbiosi che c'è sempre stata fra l'Udinese e la sua squadra e questa è un'ulteriore dimostrazione perché l'Udinese si è riconosciuta, si è sempre identificata nel suo tifoso e viceversa è stato sempre un elemento molto importante per il raggiungimento di risultati che si sono ottenuti in tutti questi anni si gioca in undici, si gioca in undici ho riproposto ma no signora io non lo so, non posso andare dietro a questi pensieri perché ognuno ha un suo ruolo, ha un suo modo di pensare io ve l'ho detto dal primo giorno che sono arrivato e credo di essermi comportato coerentemente con quello che ho detto io mi fido della squadra, dell'Udinese, di tutti quelli che ci sono e di tutti quelli che posso utilizzare noi abbiamo il vantaggio che grazie alle prestazioni e ai risultati precedenti abbiamo comunque un vantaggio in classifica e quindi noi tutto sommato siamo arbitri del nostro destino per cui intanto pensiamo a noi e quindi a fare bene quello che di solito abbiamo fatto bene un ringraziamento ai tifosi, Udinese arbitra del proprio destino queste le tematiche chiave di questo stralcio di conferenza e i tifosi che dicono chiudiamo il conto salvezza a Bergamo va pur detto che anche una vittoria non chiuderebbe il discorso salvezza perché in questo caso per chiuderla una giornata d'anticipo bisogna comunque sperare negli avversari di Carpi e Palermo perché almeno una delle due dovrebbe perdere quindi questa è un po' la tematica oppure se l'Udinese dovesse vincere basta che una delle due pareggi diciamo che l'incrocio di risultati è abbastanza ampio però bisogna anche vedere cosa faranno le altre intanto sono già 19 i pullman riempiti si potrebbe arrivare addirittura a 21 non bisogna mettersi nelle mani del Carpi a 90 minuti dalla fine ci dicono i tifosi la chiave tattica non possono mancare grinta e cuore ma l'apporto di Zapata è determinante visto che con il suo lavoro in attacco aiuta Terò un po' quello che ho anche rivolto io in conferenza stampa come domanda al mister ovviamente la presenza di Zapata oltre ad aumentare il tasso di qualità della formazione bianconera serve a evidenziare le qualità di Cyril e Terò che sono venute un po' meno come tutta la squadra contro il Toro Udinese in carrozza, tre gol a Brescia si parla di Primavera grande vittoria 0-3 vi ricordiamo tra l'altro che la trasmetteremo integralmente all'ora e 17 la partita proprio dei ragazzi di Mattiussi assolutamente un bel vedere poi c'è la provocazione di Lovisa forse magari non proprio una provocazione ma una cosa in cui credere il porterone in Serie A entro il 2020 il proclama del presidente Lovisa la vigilia del match decisivo per il secondo posto 2020 ovviamente significa una manovra abbastanza difficile in quattro stagioni ma l'ottimismo si diceva una volta in un vecchio spot è il profumo della vita quindi assolutamente vogliamo quotare la dichiarazione azzardata magari ma comunque piena di voglia di far bene da parte del presidente Lovisa abbiamo detto di Udinese e Brescia che faremo vedere alle 17 sempre Brescia ma contro Tavagnacco è la nostra esclusiva alle 15 a Tavagnacco c'è la capolista Brescia oggi alle 15 esordi in panchina per il nuovo tecnico Cassia per quanto riguarda la sfida di calcio femminile e sempre invece per quanto riguarda le nostre grandi esclusive i nostri grandi appuntamenti sportivi c'è la semifinale di playoff con uno dei più importanti Truccolo Riccardo che alza l'asticella bisogna dare di più la guardia è stata tra i migliori in campo nel successo di giovedì a Padova domenica 15 semifinale con Milano al Benedetti dovremmo essere più aggressivi contro l'Urania Milano anniversario particolare i 40 anni del terremoto sono una ricorrenza che da Friulano sento molto giochiamo anche per la nostra terra e per i nostri tifosi parole da applausi quelle di Truccolo che ovviamente come tutto il resto della GSA aspetta l'appuntamento con l'Urania Milano continuiamo a parlare anche di Udinese sulla pagina del Gazzettino con praticamente la salvezza che dipende da noi queste le parole di Gigi De Canio la prova con il Torino non cancella le altre sei gare De Canio ha detto non siamo quelli visti contro il Toro poi il tecnico sottolinea il vantaggio sul Carpi e Palermo siamo concentrati nell'occhiello si parla anche di mercato con anche la Lazio che sembra essere piombata su Danilo oltre alla Fiorentina il difensore brasiliano che potrebbe cambiare aria a fine stagione tra l'altro poi ci sottolinea il Gazzettino come ieri ci sia stata la partenza anticipata per Bergamo e come Widmer recupererà e Domizzi verrà schierato titolare le tre novità sarebbero queste sostanzialmente una per reparto Domizzi in difesa Widmer a centrocampo e Zapata in attacco stadio esaurito 2.000 tifosi in partenza dal Friuli questo è assolutamente un dato da sottolineare tra l'altro è un viaggio che noi testimonieremo in diretta con le nostre telecamere ci sarà il sottoscritto insieme anche all'aiuto di Marco Canciani stesso andremo a testimoniare tutto il viaggio con le corriere per poi andare di analisi della partita sperando anche in un rientro felice il personaggio Carnezzis un muro per il Rinato Borriello il portiere bianconero è una delle garanzie della squadra facciamo così allora prima di abbandonare i quotidiani locali andiamo a vedere un servizio che ci repiloga come al solito la lotta salvezza da parte della Lega Serie A per capire un po' quali sono le tematiche in ballo e poi andremo con un finale molto intenso di rassegna quindi prima vediamo tutte le tematiche in ballo Udinese Carpi Palermo Frosinone tutto quello che c'è da sapere sulla lotta salvezza ogni settimana cambia lo scenario e ora a 180 minuti dal termine si ha una sola certezza è la lotta salvezza più imprevedibile degli ultimi nove anni sono salve Atalanta e Bologna sono ancora coinvolte cinque squadre due i posti da schivare la situazione più disperata è quella del Frosinone a un passo dall'impresa di battere il Milano a San Siro invece quel rigore di Jeremie Menez a una manciata di secondi dal triplice fischio complica parecchio i piani i giallo-azzurri hanno solo una tenue speranza vincere le due gare che mancano e sperare che Carpi e Palermo le perdano entrambe i siciliani si sono rilanciati sette punti da quando è tornato in panchina Davide Ballardini gli ultimi tre contro la Sampdoria i blu cerchiati si mantengono in netta posizione di vantaggio basta un punto per difendere la categoria ma derby e trasferta allo stadium contro la Juve non è il migliore dei calendari contro i campioni d'Italia è caduto il Carpi che però ha un buon fatturato negli scontri diretti calcoli semplici se fa 6 punti se fa 6 punti in due partite è salvo gli avversari la Lazio in casa e l'Udinese alla Dacia Arena proprio i friulani si sono fatti riassorbire dalle sabbie mobili con lo scioccante 1 a 5 partito dal Torino ora i bianconeri sono in una situazione paradossale possono salvarsi a quota 40 così come retrocedere a 41 tutta colpa della classifica a Vulsa Luigi De Canio ha però provato a tranquillizzare i suoi giocatori la sfida alla 38esima contro il Carpi è la vera finale se l'Udinese vince è salva fa la corsa sui friulani il Palermo che è in vantaggio negli scontri diretti il gap da colmare è di tre lunghezze se Gilardino e Sochi compiono l'operazione a gancio è fatta primo tentativo domenica a Firenze c'è addirittura un'ipotesi di arrivo inammucchiata a 41 Atalanta Bologna Sampdoria Carpi Palermo e Udinese nel caso giù i friulani combinazioni da nevralgia pronte a essere ritoccate dai prossimi 90 minuti ormai siamo abituati queste le tematiche un po' da batticuore anche per la salvezza e abbiamo visto anche come in una possibilità di arrivo tutti a 41 l'udinese non sarebbe favorita dal fatto degli scontri diretti è vero anche che la vera finale risulterà essere quella contro il Carpi per questo dicevamo dell'insufficienza dei tre punti contro l'Atalanta sarebbero però sufficienti farli col Carpi insomma discorsi molto molto difficili abbiamo provato a metterci con carta e penna ma davvero non è la cosa più semplice del mondo ci spostiamo sulla gazzetta dello sport prima di collegarci anche con Bergamo con il nostro Maurizio Ferrari che è ovviamente inviato per noi provvisualmente prima del nostro arrivo domenica Juve perché c'è il Pjanic di Allegri questo è il titolo con il gioco di parole perché il tecnico rinnova e chiede un regalo nella foto proprio il momento della firma di Massimiliano Allegri sul nuovo contratto con la Juventus con lui l'amministratore delegato Beppe Marotta e Pjanic è ovviamente il regalo che vorrebbe il tecnico toscano poi Silvio che spiazza tutti Milan voglio vendere ma meglio a un italiano l'irritazione dei cinesi dopo le lunghissime trattative insomma Berlusconi che non si defila diciamo così però insomma dà un bel colpo poi l'analisi di Luca Calamai Europa e non solo Brocchi e Mancio oggi vietati flop dicevamo che oggi ci sono le milanesi in campo alle 18 con Inter Empoli alle 20 e 45 con Bologna Milan per mantenere comunque le velleità europee accese soprattutto quelle del Milan che deve vedersela a distanza con il Sassuolo impegnato invece in casa del Frosinone il Giro d'Italia Dumoulin la prima maglia rosa per un centesimo e Nibali parte forte questo per quanto riguarda le tematiche del Giro d'Italia che è scattato ieri in Olanda poi arriverà ovviamente in Italia c'è lo speciale sul tennis Federer dice sì a Roma sarà un grande show questo è appunto per la presenza di Federer poi abbiamo Verratti Euro Addio in taglio basso purtroppo un'altra macchia per quanto riguarda l'europeo per Conte pubalgia canaglia dovrà operarsi l'Italia adesso è nei guai perché assolutamente se ne va un elemento o meglio non potrà rispondere alla convocazione all'europeo è un elemento di grandissima qualità come Verratti poi ci sono anche le tematiche sulla promozione del Cagliari magari ci andiamo dopo perché vedo pronto con il collegamento il nostro Maurizio Ferrari prima di pensare alla futura Serie A pensiamo alla Serie A del presente pensiamo a mantenerla con l'Udinese innanzitutto quindi rivolgo il mio più cordiale buongiorno a Maurizio Ferrari in attesa di raggiungerlo intanto ti saluto e siamo pronti per il tuo punto da Bergamo ciao Maurizio buongiorno buongiorno Stefano buongiorno a te e a tutti gli appassionati di Udinese TV anche qui da Bergamo ci siamo svegliati pronti anche noi per la mattinata insieme per una mattinata di allenamento perché questa mattina come abbiamo ricordato anche nel corso del nostro collegamento ieri ci sarà la seduta di rifinitura alle 10.30 la squadra inizierà a scaldare i motori anche da qui per la sfida contro l'Atalanta una gara per cui abbiamo dato una sbirciata anche a quelli che sono i principali quotidiani in edicola questa mattina locali anche qui dall'hotel Winter Garden di Grassobio abbiamo analizzato nel dettaglio l'Eco di Bergamo l'Eco di Bergamo che ha dedicato tre pagine a questa partita tre pagine ha dei temi davvero molto molto diversi dimostrazione che per l'Atalanta in realtà il campionato non è ancora esattamente finito così come si possa pensare da una parte c'è la volontà di festeggiare l'ultima di Bellini c'è una lunga intervista a Pinardi che ha condiviso molte emozioni dal primo provino all'Atalanta ha tante sensazioni in casa bergamasca insomma i due sono molto legati non ci sarà Pinardi ma ha spinto assolutamente il pubblico di Bergamo per dare una bella sensazione al suo giocatore è atteso uno stadio veramente molto molto gremito non è atteso invece il Papugoma si era arrivato all'esito del ricorso c'è stato lo sconto ma non ci sarà contro l'Udinese questa è un'altra delle tematiche trattate dunque non c'è l'Argentino che comunque è un pericolo in meno da cui guardarsi c'è però la spinta importante da parte del presidente della DEA Percassi che è stato intervistato e ha spiegato come la testa adesso sia assolutamente rivolta solo ed esclusivamente all'Udinese si parlerà invece dopo del contratto di Reia quindi ha voluto mettere anche un pochino di sale se vogliamo la sfida magari proprio per garantire un'extra spinta al suo tecnico per cercare di guadagnarsi a riconferma ha parlato anche del rinvio della festa della DEA come di una scelta ragionevole se ne parlerà ovviamente per l'anno successivo infine ci sono anche le parole di Borriello un grande protagonista del corso recente e proprio Borriello ha voluto spiegare intanto magari il suo sogno di poter chissà prodare l'Europeo con questa coda di stagione veramente molto molto importante ha raccontato anche qualche dettaglio curioso sulla sua dieta tanto acclamata ma soprattutto ha fatto un passaggio anche sull'Udinese dicendo sì è vero l'Udinese magari ha più fame di noi però io ho fame per me stesso per la squadra per cercare un contratto quindi attenzione alla voglia di gol dell'attaccante italiano chiudendo chiudendo la parentesi dell'Eco di Bergamo ovviamente rimane quello che è l'appuntamento di quest'oggi è 10.30 ci sarà la seduta di allenamento e poi nel pomeriggio una riunione per andare nel dettaglio con la gara con l'Atalanta per questo collegamento è tutto ti restituisco la linea Grazie Maurizio è giusto precisare comunque infatti come l'Atalanta non sia salva lo abbiamo cercato di spiegare anche se ovviamente gli basta pochissimo velocemente un minuto per leggere le tematiche anche del Magic del Fantacalcio la viola si è spenta Palermo è ora di fare sul serio ovviamente si parla della volata salvezza anche sulla gazzetta dello Sport sottolineiamo come nelle cinque sicurezze del Fantacalcio ci sia il nostro Cyril oltre a Ilicic c'è appunto Terò Pasciuti De Silvestri e Buffon da non schierare al Fantacalcio invece Honda Falcinelli Baselli Juan Jesus e Bizarri chiudiamo leggendo le formazioni probabili di Atalanta Udinese un po' le abbiamo avuto un'infarinatura sui quotidiani locali eccolo l'ampio turnover di Reia a cominciare dal portiere Radunovic che dovrebbe giocare al posto di Sportiello poi Bellini per lui sarà festa il giovane classe 93 Gym City insieme a Masiello poi Brivio a sinistra favorito su Dramega Gliardini un altro giovane a centrocampo così come Freuler dopo il gol contro il Napoli confermato insieme a Diamanti ex Watford un po' dal dente avvelenato ed Alessandro con Borriello lì davanti anche che vorrà segnare come abbiamo sentito dalle parole di Maurizio Ferrari e poi l'udinese un po' più scritta con Carnezis Baghe Danilo Domizzi Baghe favorito su Erto Vid Verbado Guzmanovic Alfredson in vantaggio sul ballottaggio con Fernandez e Adnan Tero Zapata lì davanti Tero Zapata lo ripetiamo ancora una volta 18 gol in due la voglia di arrivare quantomeno a 19 magari anche a 20 di segnare ancora come coppia del gol bianconera che farà arrivare speriamo le zebrette alla salvezza con le formazioni di Atalanta Udinese chiudiamo il nostro appuntamento con la rassegna stampa sportiva a me non resta che augurarvi una buonissima giornata in nostra compagnia personalmente vi do l'appuntamento questa sera alle ore 21 su Giochiamo d'Anticipo ma non perdetevi tutto il resto della nostra straordinaria programmazione a me non resta o Grazie a tutti.